buongiorno a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video allora questo è un video molto particolare perché mi tiggerò i capelli però non tutti mi raccomando sono le punte e le fesce una volta rossi e ora lo farò a tropical green è un turchesa che si porta tantissimo quest'anno la marca è stargather e niente quindi ho addosso una mantellina e quindi noi prendiamoci chiacchiere e facciamo questa fazia ciao qui c'è la mia parrucchiera che prepara la pappina questa roba che penso sia il decolorante perché sia il decorante perché prima mi devo fare la parte di sotto bionda e per metterci colore se non il colore non prende e quindi aiuto se uno slime ditemi se non sembra uno slime e noi ci vediamo tra poco ciao iscriviti al canale Allora, per ora l'abbiamo decolorati e asciugati e ad un certo punto ho fatto così che sono rimasta scioccata. Mi immaginate bionda! Non mi posso guardare, non mi immaginate bionda perché... Sono una cosa leggermente oscena, ma vabbè sembra il pulcino pigo! Mi immagino c'è il pulcino pio pio! E quindi niente, non perdiamo tempo e ora ci tocca farli tropical green! Ciao! E queste sono le mani della mia parrucchiera completamente blu! E ora ci facciamo un bel shampoo! Ah, come un ripestante! Ciao, noi ci vediamo dopo! Allora ragazzi, io ho finito e l'ho anche guardato e giustato, a me piace tantissimo! Quindi tra poco, cioè tra qualche secondo, faccio vedere anche a voi e spero che vi piaccia anche a voi perché sarà un cambio look! Quindi vedete tutti così! 3, 2, 1... Ossateli! Sono torchesi! Ossateli! Sono bellissimi, guardate! Mi piacciono davvero un altro, faccio le due un po' fino a po' dietro. Faccio questa cosa che fanno tutte le ragazze, ma ti fanno le tinture, ho imparato a farle e quindi ho detto perché non farla che io? E certo! Sono fantastici! Ho immaginato tipo che uno si fa dei codini molto alti, e molto alti, e abbiamo tipo le sciocche giù, oppure una code alta, e danno le sciocche... E quindi ora faccio qualche piccola parte di nuovo, per farvi vedere il mio colore che mi piace tantissimo! Ciao! 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 mi spero tanto che questo video vi sia piaciuto e che anche il mio nuovo colore vi piaccia tanto come piace a me lasciate un'esistenza di like, iscrivetevi, commentate e noi ci vediamo al prossimo video ciao! li adoro! grazie